Bene ragazzi bentornati su Stellar Blade sul mio canale Andiamo avanti con la nostra missione Dobbiamo scoprire cosa succede qua nel centro Eidos Ah ok, punto esperienza e basta Devo stare attento perchè qua fanno le imboscate Ah non posso prendere Ah ah Mmm, cos'è sta roba? Ci sarà un alimentatore qui intorno Eh dall'altra parte vero? No Ho paura io raga, vabbè Oh merda Cosa succede? Oh no, siamo bloccati E quindi? Eh ho capito Ok qua ricordo che non possiamo usare La spada No Sono un coglione raga Sono un coglione Un coglione, coglione, coglione Ok Devo stare attentamente attento No, siamo bloccati Dai è riuscito qua questo Dov'è era venuto comunque? Eccolo Dov'è? Sono passati tra i laser senza neanche un graffio Ok Oh madonna Cacchio rim Oh oh Merda Merda Ce l'hai fatto Aia Oh Che cacchio Ok ora c'è la corrente Non c'è corrente Ah ok Non posso neanche ancora utilizzare Ok ok Ma posso passare? Ok Ok Ora l'ascensore dovrebbe andare Ah Di nuovo? Secondo round? No vero? Mmm Mi puzza Cosa? Ah ok Quanto ho? 30 Ok Non mi fido Allora No non volevo Vabbè Non volevo prendere le robe Ma va bene Compriamo un po' di Quando muori In combattimento Ah ok no Ah c'è la blast Hai detto se vuoi La pace Vabbè 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 Nel piano 3 16 Ok Vai Ah ho 0 Ok perfetto Salviamo Perfetto Ah Devo romperli Ah ok Oh madonna Ah ok È morto così Ok ok Beh io ricarico Grazie Peccato che ci sono Poche munizioni È da fare con Ah ok L'ho fatto da solo Oh oh eh Però voglio fare una roba C'è il Raccogliere automaticamente Raccolta oggette automatica Gli oggetti vicini Sai che vi dico di sì Sti cazzi Ok Tutto a posto Sì Completato 10 su 10 Ah sì Come sono messo Quella missione Allora adesso Mi manca Le copie Della mappa mentale No ho paura Non ce l'ho Ah chiuso Serve un codice Di sicurezza Grazie Grazie Qua È già aperto Ah non posso usare L'arma adesso Qua non si può fare Niente Ah qua Forse Ok Vabbè Vamonos Forse è una cosa Secondaria Boh Indizio Un A un Ok Ma qual è la strada Giusta Questa Ok Mi sa di sì Allora io vado Dall'altra parte Però Non voglio perdermi niente Magari là c'è qualcosa Di figo O nemici Ah C'è qui Questa è quella roba là Ok ho tutto pieno Va bene Quindi siamo venuti lì per niente Ok ok ci sta Ta 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 Mmm Cos'è quella roba là Oh madonna Ah cazzo Aia Ok Ok Non c'è niente qui da prendere Aspetta aspetta Magari là c'è qualcosa Che io sono Molto esplorativo In queste zone e magari c'è qualcosa qua No non c'è un cazzo Ok perfetto Perfetto Sì lo so che non posso raccogliere niente Grazie per avermelo detto Ok Giù Oh Ah ok Ricarichiamo munizioni Ma ce l'ho al massimo Ok Qua cosa c'è Perfetto Carichiamo Ah in combattimento Non si può Ok Grazie Questa si può aprire Ok Ah cazzo Me lo dice lui dove partire Ok Mamma mia E che mi da Ok Ok Non guardate il culo Mi raccomando Uh no C'è un boss Allora Contabilità Non solo uno Riposare Vediamo se posso Potenziarmi No L'esospina Posso potenziare questa Esospina è tipo Vista d'aquila No Non è quella che uso io Io uso questa Drone Posso potenziare il drone Ne ho due Rotaia del charge bledger Monta sul drone Ah Non lo so sai Pallottole migliorate Eh Vabbè Cacchio Eh lo so Vabbè Eh giusto Riposiamoci Magari parlano Infatti In effetti Sono molto diversi Questi da quelli Che abbiamo incontrato Su Ah era Dall'altra parte Scusa Eh Vabbè Non lo sto facendo Apposta E quindi Ah giù è solo Ok Ah ok Era qua Oh oh Ecco cos'è che vedevo Dall'altra parte Cos'è sta roba Oh quanto sei brutto Frate Cuore dell'infezione Ah ok C'ha questo Ma che cazzo Non ho munizioni Non ho munizioni Non ho munizioni Cazzo Cazzo No è vero Così Cazzo E mi servono E mi servono munizioni Aia puttana Aia puttana ladra Ma non gli faccio Ma non gli faccio un cazzo Oì Merda Merda Oh Ma non la Ma non la No L'ho battuto Easy Easy Madonna C'è qualcos'altro qua Da prendere Qua cosa c'è? Niente Ok Oh Beh L'ipercella si è conservata bene Ottimo Ora stai attenta Meglio se torni Ti farò trovare il tetrapode ad aspettarti all'uscita Mmm Fero C'è C'è un lascito qui Un lascito? Che cos'è? Un dispositivo con registrazioni dell'unità aerea precedente Lasciano informazioni per le successive unità aeree Capisco Ma Perché un'unità aerea sarebbe dovuta venire fin qui? Forse hanno scoperto qualcosa sull'alfa O sull'antico Io guardo il lascito Giorno otto dopo il secondo lancio Terza registrazione Account lascito Raven Unici sopravvissuti Ripley e Anis Le condizioni di Anis sono gravi La morte è molto probabile di questo passo Abbiamo scoperto questo laboratorio a 4,47 km dal punto di atterraggio Sembra una struttura dove si studiavano in Aitiba Ma è difficile ottenere informazioni a causa della grave contaminazione Tuttavia Ho scoperto un fatto sconcertante Mentre cercavo tra i dati Prima della guerra chiamata Guerra Finale Ce n'è stata un'altra Una guerra combattuta tra l'umanità E gli androidi che l'umanità stessa aveva costruito I cosiddetti Androidos Gli umani persero la guerra contro le loro creazioni I pochi sopravvissuti si nascosero in strutture sotterranee Ma la caccia era appena iniziata Tuttavia Un elemento inatteso ribaltò le sorti della guerra Con l'umanità a un passo dall'estinzione In Aitiba, potenti creature dall'origine ignota Comparvero dal nulla La guerra contro i Naitiba portò alla distruzione degli androidi Fu in quel periodo che l'umanità riuscì a organizzarsi e a fuggire verso la colonia D'ora in poi intendo indagare sull'origine dei Naitiba E trovare eventualmente al punto d'origine il Naitiba antico A chiunque mi stia guardando Che la Sfera Madre vi benedica Azz Cosa ci nascondono? Appunto Avete capito? Quindi c'è stata un'altra guerra Porca vacca Va bene raga Abbiamo fatto un bel po' di cose Io vi salustro E ci vediamo un prossimo episodio Questo è stato anche abbastanza bello Quindi ve lo lascio così com'è Bella raga Alla prossima Ciao Ciao